Iniziati ieri a Sapri con l'abbattimento di una cabina elettrica e i lavori di demolizione dell'ex cementificio. Oggi giovedì alle 10.30 il cantiere era deserto, presenti solo due ruspe senza che ci fossero condizioni meteo ad impedire lo smantellamento. Speriamo sia solo un caso fortuito e che dal principio immortalato dai pochi presenti e avvisati dell'evento eccezionale, si prosegua con l'ene d'impegno. La costruzione iniziona negli anni 50 grazie ai contributi della Cassa del Mezzogiorno, ma la ditta appaltatrice fallì ed i lavori furono bloccati e mai ripresi, lasciando solo lo scheletro in cemento armato. Negli anni le amministrazioni che si sono susseguite hanno detto più volte di voler abbattere la struttura, ma solo ora la società club di Renico, committente dei lavori e proprietaria dell'area, ha iniziato le demolizioni, il cui termine si prevede in 200 giorni. Il sindaco Giuseppe Del Medico aveva ed ha annunciato azioni in danno in assenza di promesse mantenute. L'auspice è che davvero in 200 giorni la visuale possa cambiare per sempre di meglio.